Ciao ragazzi, siamo qui a Metro World Child New York, nella scuola domenicale più grande del mondo, il fondatore Pastor Bill Wilson, e abbiamo una grande news per voi. Sai che Pastor Bill tornerà in Italia, Simona? Sì, sarà grandioso. Per noi è una contentezza enorme potervi annunciare questo tour 2018, dal 1 al 11 di giugno. Sì, e saremo l'1, 2 e 3 giugno a Catania, parole della salvezza dal pastore Nicola Spuria. Per poi essere a Caserta il 4 giugno al People Meat Center a Celebration Italia, in collaborazione con Adolescenze Estreme. E poi subito andremo a Roma il 5 e il 6 giugno per essere nella chiesa Alfa Omega, dal pastore Agostino Masdea. E poi passeremo a Milano e saremo a Sesso San Giovanni, nella chiesa Sorgente di Vita, del pastore Samuele Pellerito, l'8 e il 9 giugno. E concluderemo a Casal Nuovo di Napoli, il 10 e l'11 giugno, nella chiesa Assemblea di Dio in Italia. Per noi sarà meraviglioso perché Pastor Bill è veramente entusiasta di poter venire, di poter raccontare quello che sta accadendo nel mondo, e ringraziare tutti voi per aver pregato per come lui è sopravvissuto alla sparatoria in Siria. E racconterà e farà vedere delle cose straordinarie che Dio ha fatto in quei momenti terribili. Venite ragazzi perché sarà una sfida per tutti voi. Guardate le date, sovrimpressione, vedete qual è il posto più vicino a voi, raggiungeteci per essere sfidati dalla parola di Dio e da questo generale della fede. Quindi vi aspettiamo a giugno, mi raccomando non mancate, vi benedica! Grazie a tutti! Grazie a tutti!